...comande, o ti fico un proiettile in pancia e ti lascio morire nella tua merda. Lo entiendes? Calma, ti caprò un cazzo! Che cosa vuoi? Amaru, dove lo trovo? Stai scherzando? Tutto per questo? Ma sì! È alla Toyo Farm! Va pure! Così vedi cosa facciamo a chi si mette contro di noi. A quelli come te! Pass, 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 peace! Dobbiamo fare in fretta. Amaru è be... ...vecchio. Non durerà a lungo sotto tortura. Merda, se lo stanno già lavorando da un po', c'è il rischio che sia morto ormai. Forse, o forse no. Amaru è una figura chiave dei ribelli. Il cartello lo terrà in vita finché non riuscirà a scoprire quello che sa. Non possiamo rischiare. La posta in gioco è troppo alta. Muoviamoci. Muoviamoci. Il cartello non starà certo con le mani in mano, mentre cerchiamo di salvare Amaru. Roger, mi muovo. Hai i tuoi ordini, Carlo. Pia. Pia. Versagli marcati, in attesa. Un attimo, ti scoprirai. Versagli marcati, ordini. Proger, raggiungo la posizione. No, ecco, ci hanno visto. Pronto all'ingaggio. Apro il fuoco. Uomo a terra, cazzo. Te la caderai, arrivo. Abbiamo fatto un bel casino. Marta, fa ancora male. Con i rifornimenti ci ingrazieremo i ribelli. Marta, fa ancora male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tira su Culta e cancellatela dalla faccia della terra. Claro, al rato. E questa la chiamate un'unità coesa? Chiudiamo i ranghi. Andate, mi raggiungo. 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 di me. attenzione ci sono nemici in zona hai i tuoi ordini per che cazzo ci hai messo tanto? che cazzo cazzo Sì, sì, sì. Andate senza di me. 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 Andate senza di me.